Pizza Village, Napoli, pizzeria dove siamo qui? Nello Sinevolo Che pizza stiamo facendo? Venerano Che pizza avete chiesto? Pizzerano Di dove siete? Che parte? Un po' in provincia, Marano Marano, va benissimo, è Napoli, è Marano Come mai siete venuti a Pizza Village? Come mai siamo venuti? Noi lavoriamo qui Stasera abbiamo scelto apposamente questa pizzeria Perché? Che cosa c'ha questa pizzeria in particolare? Questa pizzeria in particolare? Esatto E questa è la pizza Quando la proviamo confermiamo Però l'abbiamo scelta tra tutte quelle che c'erano Avete fatto una cera di tutte le pizze e questa è la migliore Qual è il vostro gusto preferito? Il nostro gusto come pizza? Come pizza? Bello La pizza e pizza è sempre buono C'è pizza e pizza però Quale è il particolare? Quale vi piace di più? Come gusto? Le cose La margherita La margherita? Ci sono quelle schiziosi che a volte vanno a fare Cosa provate quando mangiate una pizza ottima? C'è la prima cosa che vi viene a me Io comunque sono felice Diventa felice Quando mangio male Ma ne mangio più Grazie a tutti Un saluto da Pizza Village Buonasera